A.A.A. proprietari Cercasi. L'appello è dei carabinieri perché una refurtiva da circa 50.000 euro di valore provento di numerosi furti attende appunto i loro proprietari proprio al comando provinciale di Arezzo. Si tratta di materiale rinvenuto nel corso della perquisizione dell'abitazione di un 34enne residente ad Arezzo di nazionalità romena arrestato pochi giorni fa, proveniente principalmente da furti commessi lo scorso 3 febbraio a loro ciuffenna. Se nelle immagini che vedete dunque riconoscete qualche oggetto non vi resta che recarvi al comando provinciale dei carabinieri di Arezzo. Il materiale che è stato rinvenuto a seguito dell'attività investigativa del reparto operativo di Arezzo ha portato al rinvenimento di merce del più disparati tipo e origine. Merce che dalla verifica della nostra banca dati delle denunce non risulta attribuibile a nessuno per cui invitiamo la nostra merce qui, invitiamo le persone che hanno subito furti e per motivi di vergogno o altre situazioni non hanno fatto denuncia eventualmente a passare dal provinciale, a venire dal provinciale a individuare per aver restituita la merce. Diciamo che c'è stato un incremento come è stato stigmatizzato dal suo eccellenza il prefetto di Arezzo rispetto all'anno scorso. Però diciamo che i furti sono tutti furti o tentati furti di medio-basso valore per cui molti ritengo, avendo anche timore e vergogna nel denunciare oppure, attesa alla tenuità del valore della merce asportata, non hanno preferito fare denunce. In questo caso però è diverso perché la merce è abbastanza consistente quindi riteniamo che siano la sommatoria di una serie di furti anche attrecedenti a questa situazione che si sta verificando a Ponticino e Laterino. Diciamo che l'entità secondo noi va oltre questi comuni ed è stata un frutto di una razzia nel comune del Valdarno pregressa a questi giorni ma cadenzata nel tempo. Grazie a tutti.